buonasera ben trovati a senior news vediamo i titoli di oggi guerra di oggi e di ieri in una serie di video la memoria dei senior italiani broncopneumopatia cronica ostruttiva i campanelli d'allarme che i fumatori non devono sottovalutare colesterolo alto i rischi di un nemico silenzioso decoder gratis agli anziani con redditi bassi c'è una memoria della guerra che non finisce finché c'è chi la racconta per questo senior italia federanziani ha raccolto una serie di video testimonianze di anziani che molti anni fa hanno vissuto la tragedia della guerra la stessa di quella di oggi in ucraina le video testimonianze diffuse in questi giorni sui canali social della federazione sono un modo per raccontarla a chi l'ha letta solo sui libri di storia invocando un messaggio che non potrebbe essere più esplicito bisogna porre fino alla guerra e aiutare chi ne ha bisogno le parole dei nostri senior ci scuotono dal distacco a cui ci sentiamo autorizzati di fronte a una guerra che forse riteniamo lontana ma non è così la guerra è qui nella memoria dei nostri anziani ed è qui nel volto delle migliaia di profughi che stanno arrivando nel nostro paese donne bambini anziani malati cronici proprio come tanti anziani del nostro paese dice la presidente di senior italia federanziani e l'onora selvi sottolineando che i profughi della guerra sono persone come le altre quei loro bisogni e le loro condizioni di salute preesistente alla guerra e il nostro paese è chiamato a rispondere al bisogno di accoglienza e di salute il fattore di rischio più importante della broncopneumopatia cronica ostruttiva è il fumo di sigaretta ma anche quello di pipa sigaro e altri tipi di tabacco la bpco può anche essere causata però dal fumo passivo sintomi come tosse cronica e marcata difficoltà respiratorie anche durante sforzi modesti non vanno sottovalutati soprattutto dai fumatori sentiamo dovrebbero sottoporsi a degli esami funzionali tutti quanti pazienti che hanno tosse e spettorazione è una patologia che si manifesta soprattutto all'inizio soprattutto con questi sintomi e questo è un problema perché molto spesso questi sintomi vengono confusi con gli effetti del fumo di sigaretti comune in realtà ci sono già i primi segni di malattia il secondo sintomo che compare un po' più successivamente alla tosse e spettorazione è la dispnea cioè la mancanza di fiato soprattutto sotto sforzo il 40 per cento circa dei pazienti con questa patologia sono pazienti fumatori soprattutto forti fumatori o ex fumatori e oltre a questo l'inquinamento in generale quindi anche l'inquinamento professionale l'esposizione a inquinanti che possono dare problemi di tipo bronchiale broncopolmonare ovviamente sono soggetti a rischio tutto questo nell'ambito però di una predisposizione genetica il colesterolo alto è un problema che affligge moltissime persone soprattutto dopo la mezza età questa condizione causata dall'aumento dell'ldl che quando si alza troppo aumenta il rischio di altre patologie come quelle cardiache il servizio l'ipercolesterolemia ovvero quando si hanno livelli di colesterolo troppo alti è una condizione che può comportare una serie di rischi per la nostra salute cardiovascolare livelli alti di questo lipide soprattutto di quello ldl che tende ad accumularsi sulle pareti interne e dei vasi sanguigni causa la formazione delle placche aterosclerotiche che possono ridurre o addirittura ostruire completamente il flusso sanguigno per questo è importante tenere sotto controllo i livelli del colesterolo attraverso un semplice esame del sangue per scongiurare il rischio di infarto La nuova tv digitale ha compiuto il nuovo passo l'8 marzo scorso e per tutti si è reso necessario risintonizzare i televisori alla luce del progressivo passaggio al nuovo digitale terrestre oltre ai bonus gestiti dal ministero dello sviluppo economico la legge di bilancio 2022 ha aggiunto una specifica agevolazione per gli anziani con redditi bassi che prevede l'invio gratuito a casa di un decoder di valore non superiore a 30 euro in favore dei pensionati Tramite uno scambio di dati tra IMS, MISE e Agenze delle Entrate verrà stilato l'elenco dei soggetti beneficiari. Nello specifico sarà l'IMMS il primo ente chiamato in causa per individuare chi potrà ricevere un decoder gratis presso la propria abitazione Senior News termina qui prima di salutarvi vi ricordo pronto Senior Salute il servizio di Senior Italia Federanziani dedicato agli over 65 che hanno prenotato tramite il CUP una visita specialistica un esame diagnostico un ricovero e l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dal medico nella prescrizione chiamando il numero 066227 4404 ogni singolo caso verrà preso in carico gratuitamente sul sito senioritalia.it potete invece rivedere questa e tutte le altre edizioni arrivederci a domani